Dico che anche su questo tema ha perfettamente ragione Di Pietro. Noi vogliamo che la legge sulla legge di difesa, che c'è già, che è stata migliorata nel 2006 da un ottimo ministro della giustizia che porta il nome di Roberto Castelli, prenda atto del fatto che in questi dieci anni, come i fatti di cronaca dimostrano, la criminalità è peggiorata. Siamo a una recrudescenza del crimine. Dieci anni fa c'era il topo di appartamento, oggi abbiamo le bande di criminali che non si limitano semplicemente a entrare in casa quando in casa non c'è nessuno per sottrarre i gioielli o i soldi. Ha un'aggressione sul bene, c'è anche un'aggressione sulla persona. E siccome dal 1983 ad oggi le sentenze della Corte di Cassazione sulla legittima difesa sono state 2497, noi vorremmo finalmente scrivere una legge chiara che non sia interpretabile. Oggi i fatti identici vengono interpretati e applicati in maniera differente da procura a procura. Vogliamo semplificare l'attività del magistrato, vogliamo ancorare il principio della proporzionalità, che è il tema di grande dibattito oggi legato alla legittima difesa, a degli elementi oggettivi e non a una valutazione soggettiva del magistrato, per aiutare il magistrato a decidere in tempi rapidi, invertendo l'onere della prova, come ha detto Di Pietro, e consentendo al cittadino che viene aggredito all'interno della propria abitazione o sul luogo di lavoro di sapere cosa può fare e cosa non può fare.